Amici cari della Genova Carilons, è il giorno di Pasqueta del 2014 e ci troviamo sul campanile del santuario di Nostra Signora della Guardia in Genova Ceranesi e ci accingiamo a suonare per la quinta volta, il quinto anno consecutivo, queste 14 campane in occasione della festa delle campane istituita da noi nel lontano 2009 nella ricorrenza del cinquantesimo della fusione di questo concerto. Mandiamo saluti a tutti, io in particolar modo al mio amico Lo Squalo che sicuramente verrà questo video, al Jerry, agli amici di Pavia che non sono potuti presenziare per motivi personali, di famiglia e a tutti quanti ci seguono su Youtube e su Facebook. Dal santuario di Nostra Signora della Guardia un carlo rosso saluto a tutti e un abbraccio. Arrivederci da Michele Mantero e dalla Genova Carilons qui nella persona del cassiere e uno dei soci. Arrivederci.